Ciao a tutti, chi di voi è stato attento si ricorderà che qualche mesetto fa vi avevo comunicato che all'interno di casa era arrivato un nuovo membro della famiglia, ovvero avevamo preso un cane, un bellissimo border collie di nome Argo. Ebbene, il motivo per cui ne parlo oggi è che oggi vediamo un prodotto dedicato a lui, un guinzaglio sostanzialmente, e il motivo per cui ne parlo qui sul canale dove parlo solitamente di cose tecnologiche è che appunto non si tratta di un guinzaglio qualsiasi, ma un guinzaglio decisamente più smart, decisamente più tecnologico rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Solitamente io con lui utilizzo due guinzagli, quando vado in giro di solito utilizzo uno in corda a lunghezza fissa, però ogni tanto magari la sera quando usciamo soltanto io e lui utilizzo il classico guinzaglio di plastica con la corda retrattile. Se non fosse che un paio di settimane fa, l'ho lasciato con lui un attimo, 5 minuti, il tempo di prepararmi con questo guinzaglio, e quando sono tornato da lui sostanzialmente quello che ne è rimasto è questo. Aveva molta voglia di fare altra conoscenza, evidentemente c'era questo attaccato al suo collare, e allora nasce lì l'esigenza di prenderne uno nuovo. In realtà avevo già addocchiato questo guinzaglio perché mi era comparso sui radar di Amazon, e ve lo presento, eccolo qua. Si tratta di, non so, GoShine Retractable Doglish, un prodotto chiaramente di derivazione cinese, infatti qua da qualche parte esatto leggo Shanghai. Però devo dire che nonostante questo mi sta soddisfacendo perché come vedremo tra poco è un guinzaglio che è estremamente compatto, estremamente completo, e che va a, diciamo, coprire determinate esigenze mie particolari, ma che probabilmente hanno vari proprietari di cani. Andiamo a vedere l'unboxing, quindi apriamo subito la confezione. Io in realtà l'ho già aperta, ve lo dico, però ho cercato di rimetterla più o meno come l'avevo trovata. Ovviamente c'erano le plastichine, alcune ancora non le ho tolte, tanto per farvi vedere. Questo è sostanzialmente il guinzaglio, e vi farò vedere che me lo aspettavo in realtà più grosso, e sono contento invece che sia molto più compatto. All'interno della confezione però non è tutto qui perché abbiamo qua sotto, abbiamo anche manualetti delle istruzioni, che in realtà l'ho letto ben poco perché è abbastanza semplice come prodotto, ma qua sotto, udite, udite, abbiamo la base di ricarica USB. E voi direte, perché cavolo Paolo devi usare la base di ricarica USB? Ebbene, adesso lo vediamo, lo scopriamo, perché sostanzialmente andiamo a fare il peel-off delle plastichine che ho ottenuto soltanto per voi. Abbiamo due funzionalità per il quale serve una batteria integrata. Allora, ok. Sostanzialmente abbiamo due pulsanti posizionati a sinistra e destra del guinzaglio. Con questo vado ad accendere questo anello colorato, ok? Questo anello colorato che mi permette, in condizioni di bassa luminosità ambientale, sostanzialmente quando porto il cane in giro la sera, di essere un minimo più visibile, ok? Ma non è finito qui, perché se io accendo questa luce, poi posso regolarne il colore. Qua vedete che facendo questo sostanzialmente, questo movimento rotatorio, posso andare a selezionare diversi tipi di colori, ok? E posso scegliere tra un colore singolo, oppure un mashup di due o tre colori, un po' di colori mi sembra che sia. Comunque andando avanti, qua più o meno si arriva al risultato desiderato. Questa cosa mi è piaciuta molto, ovviamente è molto, molto chiccosa, se vogliamo. Ecco, questa è forse la mia preferita, un blu misto viola. E vedete anche che la luce fa una sorta di movimento rotatorio. Però questa cosa mi piace davvero tanto. C'è un'altra funzionalità, che secondo me è quella ancora più interessante, ovvero il fatto di avere una lucina, una lucina posta davanti, al di sotto del guinzaglio, del cavetto. E questa lucina sostanzialmente mi permette di tenere d'occhio il cane mentre la porto in giro. Inizialmente, quando l'ho provato la prima volta, ho detto, ma cavolo, perché l'hanno messa sotto se quando io vado in giro col guinzaglio vado a coprire sostanzialmente con il cavo la luce. Ebbene, non è esattamente così. È stato pensato, secondo me, proprio per andare ad illuminare con il fascio di luce il cane. Perché appunto, essendo il cavo tirato, la luce va proprio a, diciamo, illuminare la posizione del cane. E l'ho trovato estremamente utile, anche perché in questo modo possiamo tenere d'occhio se eventualmente il cane si sta mangiando qualcosa che non dovrebbe, cosa molto importante, specialmente quando sono cucine ancora devono un po' imparare. E quindi l'ho trovato molto molto utile. In più, ovviamente, permette sempre di segnalare la propria posizione in una maniera forse ancora più efficiente che non l'anello circolare. Ha un discreto livello di illuminazione, non è ovviamente una torcia di quelle estrapotenti, però diciamo che anche se dovessimo utilizzarlo per illuminare magari intorno a noi, io abito in un'area abbastanza boschiva, quindi quando vado in giro in alcuni punti sono totalmente privi di luce e devo dire che ti dà quell'illuminazione necessaria comunque per vedere magari in un boschetto se c'è qualcosa. Il cavo, lo vedete o l'avete forse già visto qua, è lungo tre metri, quindi un cavo retrattile di lunghezza di tre metri. Non vi so dire, spero di non dovervelo dire, se è resistente o meno ai denti del mio cane, speriamo appunto di non doverlo assaggiare. C'è un'altra particolarità però, ovvero è dato dallo stop, ovvero io posso stopparlo sostanzialmente in due modi. In questo modo mettiamo di avere un'emergenza improvvisa e quindi ho urgenza di dover bloccare il mio cane all'istante. In questo modo semplicemente premendo in basso la levetta vado sostanzialmente a bloccare il cavo in entrata e in uscita, ok? E questo è sostanzialmente appunto per momenti così di urgenza. Se invece voglio bloccare ad una lunghezza fissa, sostanzialmente cerco di farvelo vedere, abbasso e spingo indietro questa levetta grigia. All'inizio può sembrare un po' macchinoso, però diciamo che con l'utilizzo si fa abbastanza semplici perché è abbastanza intuitivo, come vedete che col pollice sostanzialmente lo si fa in un attimo. E questo, più le luci, più il tutto, devo dire che mi ha soddisfatto. L'unica cosa, se vogliamo, è il fatto che poi per spegnere la luce io devo fare di nuovo un doppio tappo e vedete che mi va a spegnere anche l'anello circolare e quindi per riaccendere l'anello circolare devo sostanzialmente ripremere ancora. Non vi so dire l'autonomia, magari ve la scrivo sulla recensione sul blog, quindi come al solito in descrizione trovate ulteriori dettagli perché lo sto ancora testando, però volevo segnalarvi questa cosa prima che magari durante Black Friday arrivi qualche offerta che magari ve lo lasciate scappare perché è sicuramente un prodotto interessante, anche perché come dicevo io l'avevo messo nei miei radar a un costo base di 55€ che li reputo troppi per un guinzaglio sostanzialmente, però appunto l'avevo preso in offerta a 35€, quindi 35€ con tutte queste cose, col fatto che mi permette di evidenziare, segnalare la mia posizione quando porto il cane in giro la sera, devo dire che ci sta, li spendo anche volentieri, in più c'è il discorso della lucina che mi permette appunto di vedere cosa si sta mangiando quel porco, perché sostanzialmente è quello il problema, devo dire che li ho spesi più che volentieri. Non vi ho fatto vedere l'ultima chicca, ma era sostanzialmente la base di ricarica, lo vedete anche voi, ha un cavo abbastanza lungo, è USB, quindi lo attaccate dove volete, anche a qualsiasi alimentatore e sostanzialmente la comunità e qua sotto ci sono i pin, lo si mette in appoggio e lui va in carica molto molto semplicemente e mentre carica illumina i led. Un prodotto decisamente smart per un mondo, quello appunto dedicato ai cani, ai nostri amici, che sicuramente fa piacere perché appunto anche lì ci vuole una ventata di novità per proporre qualche cosa di diverso. Io spero di aver fatto cose gradite nel segnalarvi appunto questo prodotto perché mi sto trovando discretamente bene e vi ricordo appunto se vi è piaciuto il video mettete like, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al canale Telegram così se questo prodotto dovesse andare in offerta, magari anche durante il Black Friday sicuramente vi lo segnalerò. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.